Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. La tempesta sentimentale che ha coinvolto Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra non aver ancora calmato le acque del gossip italiano. Dopo la loro ultima e clamorosa separazione, avvenuta all'inizio di questa estate, il pubblico ha atteso con ansia ogni nuovo sviluppo della loro vita sentimentale. Belen non ha perso tempo, e ha presto fatto parlare di sé, mostrandosi in compagnia dell'imprenditore Elio Lorenzoni, con il quale ha successivamente ufficializzato la relazione attraverso un post su Instagram. I paparazzi non hanno mancato di immortalarli insieme in diverse occasioni. Tuttavia, ora è il turno di Stefano. Le ultime indiscrezioni rivelano che il noto conduttore di Rai 2 sia stato avvistato con una certa Martina. Le foto che verranno pubblicate sulla prossima edizione del settimanale, chi, mostrano i due passeggiare per le affascinanti vie milanesi, e trascorrere la serata presso un noto ristorante vegano. Per poi concludere con una nottata a casa De Martino. Sebbene i due non abbiano mostrato familiarità eccessiva, le voci sul loro possibile legami stanno già circolando. De Yanira Marzano, influencer e osservatrice accanita del mondo VIP, ha svelato ulteriori dettagli su Martina attraverso le sue Instagram Stories. La ragazza, originaria di Pescara ma milanese d'adozione, avrebbe avuto una relazione con un personaggio noto, di cui non si conosce ancora l'identità. Il magazine, chi, però, ci tiene a precisare che Martina non appartiene al mondo dello spettacolo, dettaglio che potrebbe aver catturato l'attenzione di Stefano, da sempre alla ricerca di una compagna lontana dalle luci della ribalta. Ad oggi, è prematuro trarre conclusioni sulla natura del rapporto tra Stefano e Martina. Amicizia, amore, o semplice conoscenza? Ciò che è certo è che i due hanno trascorso del tempo insieme. La curiosità cresce, e noi restiamo in attesa di nuovi sviluppi. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie Grazie